Grazie al successo della prima edizione della Fiera del Miniquadro che ha visto artisti di varia provenienza con esposte opere di pittura, scultura, fotografia, grafica e negli letti di Burrano. La Fiera del Miniquadro anche quest'anno viene risposta come la precedente obbiettando opere di artisti contemporanei e opere di artisti storici provenienti da collezioni private. La durata dell'esposizione sarà dal 10 al 23 ottobre ma le opere dovranno pervenire in galleria dal 2 al 7 ottobre per l'allestimento e avestimento effettuato. Piccole opere ma grandi affari come potrà senz'altro sottolineare il nostro ospite straordinario il nostro professor Vittorio Garbi che cominterà la manifestazione di artisti contemporanei aderenti il giorno 17 ottobre alle ore 18.30. Tutto ciò verrà anche documentato sulla pagina ufficiale del Facebook della Galleria L e gruppo pubblico della Galleria L che è in grande esposizione. Criteri di ammissione L'adesione è aperta a tutti senza limiti di età, sesso e nazionalità. Le opere dovranno rispettare le seguenti misure elaborati in qualsiasi tipo e piuttosto con prese di fotografie non dovranno superare il formato A3 cioè 29,7 x 42 cm esclusa con l'ince gli elaborati pittorici su tela o per toncino telato non dovranno superare dimensioni 30 x 45 cm esclusa la con lince Le opere scultore dovranno avere dimensioni simili anche in profondità ed essere accompagnate dall'adeguato sconto Ogni artiste può partecipare con una o più opere a tema libero ed in piena libertà stilistica e tecnica Le opere bidimensionali potranno essere con o senza fornite con o senza vetro purché dotate di apposita taglia E' imprevisto inoltre un incontro conviviale con il professor Gavi o numero limitato per il mio intervento nazionale Per l'inscrizione ed ulteriori informazioni riservando su scheda di inscrizione contattare il sito www.lgalerie.it cellulare 347 922 5107 oppure info.lgalerie.it Ricordo che la scadenza se l'inscrizione era fissata al 15 agosto 2020 ma verrà prorogata al sabato 22 agosto